Nodo sicurezza a Conegliano. Dal Biscione, dove poco più di una settimana fa un giovane nordafricano per evitare un controllo ha ferito due vigili urbani, a bus e corriere dove a creare problemi sono bande di ragazzini, il problema va preso di petto. A ribadirlo è il presidente del Consiglio Comunale della città del Cima e candidato di Forza Italia alle elezioni regionali Fabio Chies. Il problema non è assolutamente da sottovalutare. Questi ragazzi non possono pensare che a Conegliano si possa fare assolutamente quello che si vuole senza essere impuniti. Noi riteniamo che la nostra città debba essere un esempio di sicurezza e di pulizia. È quello che come amministrazione stiamo facendo, è quello che come amministrazione faremo, è quello che i nostri cittadini vogliono. Bulli sulle corriere della MOM nella tratta tra Conegliano e Pieve di Soligo, forze dell'ordine impegnate a contrastare un fenomeno che ha già creato serie disagi. All'interno dei bus e delle corriere viaggiano anche tutte le persone del nostro territorio, anziani, giovani, che devono essere comunque tutelati. E ritengo che debba essere in primis un problema che debba essere risolto perché non ci siano pericoli per il conducente, per coloro che viaggiano e soprattutto per dimostrare ancora una volta che la città di Conegliano è in prima linea a livello amministrativo e con le forze dell'ordine per la sicurezza. Fondamentale potenziare i controlli, dice Chies, ma per contrastare questa tendenza occorre intervenire anche a livello di prevenzione. Ma ritengo che la prima cosa da fare sia un problema di educazione. Noi nelle scuole abbiamo cercato, ho fatto l'assessore alla pubblica istruzione per cinque anni e anche l'assessorato oggi sta cercando di fare delle politiche che vadano in questa direzione perché l'istruzione deve essere assolutamente il primo gradino che porta ad una società di domani che debba essere educata e rispettosa delle persone più deboli.